Allora adesso abbiamo un momento abbastanza importante perché devo dire che io non ci credevo, l'ho letto, però ho avuto una certa difficoltà a credere a quello che leggevo. Effettivamente gli artisti sono molto bravi, sono talentuosi e molti artisti chiedono di venire a cantare qui. Mi dicono che signore e signori, io ve lo annuncio, Pino Daniele. Scusi, lei non è Pino Daniele? Sì che sono io. No, guarda io lo conosco, abbia pazienza, ma proprio si assomiglia per niente. Sono io, Pino D'Apostrofo Aniele. Allora guarda, ci deve essere un errore, no perché a me hanno detto che ci sono un sacco di artisti che vogliono venire a cantare qui. Lei, vabbè, oramai qui ci canta qualcosa, cosa è venuto a fare? Sì, sì, sì. Ci dimostri che di essere almeno... Pino D'Apostrofo. Vabbè. Cosa canta? Io canto una canzone, il titolo. Quei giorni in cui il sole non c'è, arrivano le nuvole dall'alto. Un titolo più corto? Quando chiove. Ah, ecco. Io l'ho già sentita questa canzone, però... Comunque signore e signori, Pino D'Apostrofo Aniele, in... I giorni il sole non c'è più. Quando chiove. Quando chiove. E ti senta quando c'è in una scala, e cose senza guardare. E te vega tutte e jone, cari denne vai a patica, ma porre direkio. De lontana, se ne va. Tutta vita così. E ti senta quando c'è in una scala, ma porre direkio. E ti senta quando c'è in una scala, e te vega tutte e jone, che mi senta quando c'è in una scala. Ehi, scusa, 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 no! Questa canzone è di Pino Daniele. No, Pino D. No, Pino... Vada, 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 vada. Scusate. Date pazienza, ma... C'è, Mariella... Succedono anche queste cose. Ma chi è? e sei mesi che lavoriamo mi chiama un mese fa guarda c'è Pino Daniele che vuole venire gli ho detto mi sembra strano Denis ormai è conosciuto secondo me in tutta Italia dico vabbè facciamolo venire mi fiderò di te la prossima volta ma infatti si chiama Pino Daniele eh ho capito visto che siamo qua non c'è nessuno